Ospite d'onore del Festival della Melodia all'interno della casa circondariale San Donato di Pescara il noto musicista Santino Spinelli che per l'occasione ha preparato qualcosa di particolare per allietare la presenza di tutti coloro che si trovano qui in questa struttura. Un brano tipico della tradizione musicale rom proveniente dall'Ucraina proprio perché c'è questo momento di difficoltà, di crisi internazionale e quindi da un popolo di pace come quello Roma questo brano è portato in dote durante la Belle Epoque a Parigi e poi è diventato un brano celeberrico in tutto il mondo che è O Cicciu Argnà. Io lo eseguirò con delle variazioni facendo un viaggio all'interno delle comunità rome di tutta Europa quindi in tanti stili diversi. Domenica sarà con Papa Francesco per suonare per Papa Francesco a Roma oggi con il Festival della Melodia una rassegna che conosce molto bene con questi giovani emergenti della musica italiana. Infatti già siamo stati assieme a Città Sant'Angelo è una rassegna meravigliosa perché dà l'opportunità ai giovani di potersi esprimere e di farsi conoscere una delle poche opportunità poi qui in Abruzzo quindi ecco che benvengano questi eventi culturali ma soprattutto anche di solidarietà perché la musica è anche un mezzo per creare solidarietà e come dire promozione a livello sociale oltre che culturale quindi dove c'è bisogno la musica deve esprimersi. Personaggio conosciutissimo Santino Spinelli ambasciatore della cultura a Roma nel mondo docente universitario dall'alto della sua esperienza che cosa si sente di augurare a questi giovani talenti della musica italiana ma soprattutto agli ospiti della casa circondariale? Di credere nei propri sogni e quindi di non mollare mai la speranza questi sono due elementi importanti sognare e avere speranza per vivere bene con se stesse e con gli altri.